ok continuiamo lo speaker successivo ha avviato il gruppo meetup di Ancona in 2015 prima di aver mai partecipato a qualsiasi WordCamp o Contributor Day veramente da zero lei parla ai WordCamp in tutto il mondo l'anno scorso a WordCamp US no ho solo partecipato ma almeno eri di là mentre la famiglia si prende cura dei quattro gatti giusto? mi ha detto che siete ancora in tempo per correre al talk di Maurizio Pelizzone in track 2 se non volete essere qui ma meglio rimanere qui ma di sicuro io resterò per sentire tutto su come autopromuoversi online e anche offline mesdames e messieurs Margherita Pelonara grazie allora è la prima volta che parlo torno a parlare in pubblico dopo l'emergenza pandemica fa un po' strano essere qui ma soprattutto fa un po' strano avere questo archetto stile Ambrangiolini anni 90 permettetemi di fare un saluto ai miei genitori e a mia zia a casa che mi hanno assillato tutta la settimana con il link per lo streaming YouTube allora mi ripresento un attimo sono Margherita Pelonara sono una senior web designer mi occupo di siti web di blog e di e-commerce dal 2012 li progetto li sviluppo li aggiusto e insegno alle mie clienti ad usarli come internet comanda questo perché penso che un sito che fa quello che promette è il primo seme di un business online che fiorisce questa diciamo è riassunto in una slide della mia vita nella community di Wordpress in alto quando ho aperto il meetup a Ancona poi quando ho fatto la speaker al WordCamp di Bari la speaker nel 2020 dal mio studio rigorosamente in ciabatte con i colsini spagliati e infine l'ultimo la partecipazione a WordCamp US grazie alla alla borsa di studio a disposizione dalla Wordpress Foundation con cui appunto ho potuto partecipare a questo bellissimo evento e al di là di Wordpress l'avete già visti ci sono loro i Catani quindi ciao pure a voi di cosa parleremo oggi parleremo di cosa significa autopromuoversi che cos'è l'autopromozione perché è importante se fate un lavoro digitale soprattutto ma un lavoro in generale che ha bisogno di appunto trovare dei clienti perché è così difficile e ci mette a disagio e come riuscire come provare a superare questo disagio e autopromuoversi serenamente la domanda che tutti ci facciamo è come posso far conoscere il mio lavoro come faccio a farmi notare come faccio a trovare dei potenziali clienti la risposta potrebbe essere abbastanza semplice bisogna essere talmente bravi da emergere sugli altri quindi spiccare no? e quindi appunto essere bravi significa essere trovati e posso anche essere d'accordo che essere bravi significa essere trovati ma questa cosa ovviamente a me riempie di enorme responsabilità e già mi fa sudare enormemente perché non dovremmo essere noi a trovare il nostro pubblico ma il pubblico a trovare noi e però ecco per essere trovati occorre anche essere trovabili e quindi io sono da sempre convinta che deve necessariamente esserci un modo differente per mostrare il mio lavoro fare in modo che la gente lo scopra mentre io mi preoccupo essenzialmente a fare quello che so fare meglio i siti internet e questo talk è un po' un tentativo di creare un'alternativa all'autopromozione in versione per i timidi e per gli introversi come me e per gli insicuri e quindi per coloro a cui può risultare difficile salire sulle spalle degli altri quindi che cosa significa autopromozione l'autopromozione è quell'azione appunto di promuovere di pubblicizzare se stessi e il proprio lavoro con le azioni con i fatti ma soprattutto con grande grandissima convinzione tutti sappiamo come si fa in grosso modo autopromozione quindi attraverso il nostro sito web attraverso gli articoli sul blog i social media le newsletter gli eventi in presenza come possono essere questi quindi fare da speaker partecipare ai meetup ma anche dare biglietti da visita stampare brochure eccetera tutte queste cose che noi sappiamo però ecco qual è un po' l'inghippo dell'autopromozione è che se siete timidi e insicuri cronici un po' come me già la sola parola autopromozione vi fa venire l'orticaria però perché è importante autopromuoversi perché perché l'85% degli incarichi che riceviamo ci arrivano ci arrivano un po' con il passaparola non so come succede dalle vostre parti e tenete a mente questo numero perché appunto questo passaparola ve lo fate un po' costruendo la vostra reputazione diciamo in giro tenetelo a mente perché ci tornerà utile più avanti ma perché autopromuoversi è così difficile e ci mette a disagio c'è qualcosa c'è già dentro la parola dentro il concetto che ci blocca e personalmente tutte le volte che sento la parola appunto autopromozione autopubblicizzarsi io mi sento eternamente in questa situazione cioè dentro la televendita anni 80-90 no dove io sono io la mia la mia persona la mia professionalità la mia le mie competenze sono un po' simili alle pentole o la mountain bike col cambio Shimano e purtroppo siamo venuti su con questa come dire in compagnia di questo sottofondo e e questo insomma è il risultato la seconda cosa è che autopromuoversi espone al giudizio degli altri e ci fa un po' sempre sentire in cima alla torre d'orio delle scelte dei nostri clienti e quindi c'è sempre il rischio che qualcuno decida di buttarci di sotto e questa cosa appunto non è estremamente confortevole l'altro motivo è che appunto promuovendosi specialmente online ci espone ai commenti diretti chi di voi non è stato mai oggetto di commenti dei troll no? i famosi queste figure leggendarie che non abitano solo le fiabe scandinave ma stanno sui social network e lasciano un po' commenti provocatori così in giro e a sproposito ma probabilmente il troll più feroce è quello che abita un po' dentro ognuno di noi no? è quella vocina che fa breccia fra tutte le possibili insicurezze che abbiamo no? tutte le inclinature e spesso prende un megrafono e inizia a urlare a tutto volume proprio quando magari state per pubblicare qualcosa e sentite lui o lei che urla forte che quello che state facendo non ha alcun valore quindi forse è meglio che riponete lo smartphone e fate altro e poi ecco autopromuoverci fa venire a galla la famosa sindrome dell'impostore cioè non mi sono meritata quello che ho e prima o poi purtroppo qualcuno lo scoprirà quindi forse è meglio stare zitti e poi c'è un'altra cosa non lo so se dalle parti vostre usa così ma spesso siamo cresciuti con la convinzione che maneggiare il denaro è un po' come svilire la creatività no? quindi mercificarla è sempre qualcosa di estremamente disagiante ecco e la narrazione a cui siamo stati esposti ci ha inculcato questo fatto e spesso pensiamo e siamo convinti che chi tratta il denaro è sempre genente di malaffare poi c'è un'altra cosa che è a monte di tutto è quella cosa che si chiama il self promotion gender gap è un fatto che gli uomini si autopromuovono serenamente mentre le donne un po' meno perché perché noi donne siamo cresciuti con l'insegnamento anche implicito che in quanto donne non dobbiamo fare troppo clamore che dobbiamo essere un po' l'ammortizzatore delle situazioni possibilmente in silenzio occupando il mino spazio possibile e fare tutto questo con con grazia e leggiadria e le donne che che si autopromuovono spesso quelle che lo fanno con sicurezza e diciamo sforontatezza appunto sono viste come arroganti vanitose e mi fermo qui perché spesso si aggiungono anche commenti un po' più pesanti e sì sì ma è quella roba lì che dico sempre è il patriarcato ho letto in un report dell'università di Harvard che gli uomini si sovrastimano di un 33% in più rispetto alle donne a parità di prestazioni e cioè non è che lo fanno perché sono brutti cattivi e gradassi semplicemente hanno sono cresciuti con meno condizionamenti di quello che oggettivamente subiamo noi noi donne e quindi ecco con tutte queste belle consapevolezze in tasca voi vi sentireste a vostro agio a parlare del vostro lavoro a celebrare serenamente i vostri piccoli successi quotidiani io personalmente ogni tanto insomma faccio molta molta fatica e quindi ecco voglio raccontarvi la storia di un cortocircuito il mio quando ho iniziato la mia attività improprio ero ancora una dilettante credo come tutti ho cominciato con wordpress mi hanno buttato dentro questo progetto non conoscevo una riga di codice tuttora non la conosco ma non sapevo nemmeno proprio come funzionasse il CMS anche con i social poi ok ho fatto due master professionalizzanti sono partita poi in tutta velocità da dilettante e sono andata avanti per un po' di anni regolarmente anche abbastanza serenamente fino a che nel 2020 il 2020 doveva essere il mio anno d'oro avevo un business plan avevo un piano editoriale avevo messo in piedi un percorso formativo di autopromozione per psicologi life coach e counselor era insomma in procinto il lancio e lo dovevo tenere dalle mie parti fra marzo e giugno 2020 avevo già video di promozione pronti per essere lanciati insomma condivisi e poi sappiamo tutti come è andata diciamo che non l'ho presa proprio benissimo e ho iniziato a fare una grandissima fatica anche solo a portare avanti il mio il mio lavoro che però nel frattempo era esploso perché tra marzo e giugno tutti praticamente volevano un e-commerce oggi per ieri e e quindi mi si è spento un po' l'entusiasmo e la voglia di condividere online mentre prima per me era una cosa come dire parlare di me è sempre stato difficile però condividere online e far circolare no le idee era sempre stato facile e e qui in quel periodo non so se voi ve lo ricordate ma tutti facevano dirette storie tutti regalavano freebie ricette le cinque cose da fare per arrivare a 10.000 follower in tre giorni le cinque cose da non fare per non perdere le visualizzazioni le ricette del pane eccetera ecco io ho vissuto quella valanga di contenuti come un grande e fastidiosissimo rumore di fondo e ogni volta che mi affacciavo dentro i social network mi sentivo sempre più inadeguata sempre più banale incapace di fare delle cose di valore incapace di competere diciamo con gli altri e di reclamare un po' il mio spazio e tutte le volte appunto che aprivo Instagram o i social in generale mi mancava proprio il respiro io soffro attacchi di panico e quindi lo so perfettamente che quello è un sintomo che non dovevo trascurare e quindi ho chiuso tutto ho smesso per un bel periodo di entrare su Instagram su Facebook su Twitter e su LinkedIn e per un bel periodo è durata e quando dico un bel periodo intendo non un mesetto ma circa una decina perché appunto avevo perso la gioia della condivisione quell'entusiasmo del dilettante che non ha niente da perdere mi sentivo sentivo arrepentaglio tutte le volte la mia la mia reputazione ecco e e quindi ho smesso di vedere quello che facevano gli altri ma ho smesso anche di autopromuovermi e se svolgi una professione digitale una libera professione specialmente nel digitale questa cosa è un luso che non non puoi permetterti perché smettere di 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 comunicare di di pubblicizzarti appunto equivale a scomparire equivale a non essere più trovabile e se non pubblichi sei fuori dall'algoritmo no? e se scompari dall'online hai meno possibilità di trovare clienti specie se stai confinato in casa e su quell'85% di prima di lavori che arrivano con il passaparola cioè da 85 sono arrivati a 80 poi 60 insomma questa cosa ha avuto una ripercussione prepotente sul mio lavoro e sul mio fatturato però che cosa ho fatto in quei mesi? ho capito un sacco di cose di me che in realtà io già sapevo ma forse non avevo mai avuto il il coraggio di dire a voce alta e di portarle avanti con convinzione e voglio condividere con voi perché è questo un po' il succo della storia allora per me condividere costruire un rapporto di fiducia di trasparenza estrema con le mie clienti è alla base di tutto è per questo che io odio le televendite perché è quel genere di marketing che a me non piace io non voglio essere la migliore sul mercato né quella che offre lo sconto più alto perché magari la qualità è scarsa io voglio solo migliorare magari un po' per quello che posso per quello che mi è possibile la vita delle persone che si rivolgono a me e che tirano fuori i soldi che magari loro hanno guadagnato con sacrifici appunto è questo e quindi ho deciso che dovevo cambiare un po' le regole del gioco perché ho 46 anni e quando arrivi a 46 anni sei grande abbastanza da non voler più scendere a compromessi con nessuno e appunto di cambiare le regole del gioco queste nuove regole del gioco passano innanzitutto dal cambiare la narrazione cioè cambiamo come descriviamo la realtà perché questa cosa noi la possiamo fare con l'intenzione quindi siccome le parole plasmano il pensiero e il pensiero plasma le azioni e viceversa possiamo appunto essere intenzionali su questo e possiamo fare la differenza nel nostro mondo ma anche nel mondo insomma intorno a noi e quindi ecco ho bandito dal mio vocabolario la parola autopromuoversi a casa mia non si dice più autopromuoversi perché perché non ci piace piuttosto diciamo seminiamo online il nostro lavoro perché seminare significa appunto spargere dei semi affinché germoglino e l'azione del seminare quindi del condividere non è un qualcosa che viene fatto a caso perché quello è sparpagliare no? Seminare è qualcosa appunto di intenzionale quindi condividere qualcosa che sappiamo avrà un effetto sugli altri la seconda cosa è smettere di sentirsi un po' i supereroi che non devono fallire mai e ho promesso che non smetterò mai appunto di seminare il mio processo creativo come quando ero una dilettante come quando non avevo niente da perdere perché la verità è che in questa vita siamo tutti dilettanti e un po' lo sbaraglio qualche volta e nessuno diciamo ha tutte le istruzioni già precaricate no? E quindi ecco andiamo avanti conservando appunto quell'entusiasmo di imparare cose nuove di intracciare nuove relazioni e di mettere passione in quello che facciamo e che ci dà soddisfazione riguardo alla sindrome dell'impostore e beh allora cioè siamo tutti degli impostori oppure nessuno di noi lo è perché da dov'è che prendiamo le ispirazioni lo possiamo dire con precisione come ci nascono le idee siamo immersi in un mondo dove tutto è già stato detto scritto in qualche modo e quindi le idee che ci nascono ovviamente subiscono questi questi influssi quindi è difficile dire da dov'è che nasce diciamo una certa una certa idea quindi appunto non siamo impostori e quindi non stiamo meritiamo diciamo quello che otteniamo e non siamo rubando niente a nessuno anche io cito il professore di metodi matematici per l'ingegneria il professor Varlorani diceva sempre che si impara appunto per imitazione no? e che poi ognuno di noi ci mette del suo quindi anche la soluzione di un'equazione differenziale alla fine ognuno di noi la fa in una maniera diversa perché qualcuno semplifica qualcosa prima o qualcuno dopo anche se alla fine si giunge allo stesso risultato quindi se anche la matematica è diciamo così singolare ci possiamo permettere che anche tutto il resto lo sia ecco poi come dire buttiamo giù il mito del denaro e del denaro e della creatività perché se Michelangelo ha affrescato per soldi la cappella Sistina cioè secondo voi la sua creatività ne è stata compromessa io direi proprio di no quindi ecco se l'ha fatto Michelangelo anche noi nel nostro piccolo possiamo tranquillamente farci pagare la nostra creatività proprio con disinvoltura perché in fin dei conti il denaro ci serve per pagare le bollette per comprare il pane il latte e le scarpe ai figli e poi ecco non siamo arroganti se seminiamo il nostro lavoro in rete si tratta solo di trovare la voce giusta però ecco per sapere qual è la voce giusta bisogna usarla almeno qualche volta e ve lo dice una che canta in un coro da quando aveva dieci anni infine infine ecco usciamo dalle logiche delle piattaforme e se è necessario usciamo proprio dalle piattaforme perché le piattaforme sono banalmente degli strumenti e quindi sono loro che sono al nostro servizio non siamo noi ad essere al servizio loro e non è necessario stare dappertutto non dobbiamo permettere appunto che seminare questo nostro lavoro online sovrasti il nostro lavoro principale quindi meno perfezione e più sostanza e soprattutto ricordiamoci che al di là dello schermo c'è la community e ci sono le persone io ho finito vorrei ringraziare gli host perché mi ha permesso di essere qui tramite il diversity fond e non perdiamoci di vista grazie margherita grazie dunque penso che se posso mettere in evidenza un evento per auto promuoversi sarà work camp torino 2024 qui certo grazie allora abbiamo domande uno due allora ci vuole mascherina per lei o no prima di parlare io tengo microfono ma non è una domanda in realtà è un suggerimento prima di tutto grazie per l'intervento grazie quando io sento ultimamente quando sento le sindrome dell'impostore penso a Elon Musk e dico io almeno non ho pregato 44 miliardi un social network ne vale 7 milioni e comunque non lo sto tornando quindi se Elon Musk va sulla sua raganza possiamo andarci anche noi esatto grazie poi c'era un'altra domanda qui se non mi sbaglio ok anche la mia più che una domanda è un po' una linea a volte pretendiamo da noi stessi tantissimo senza neanche renderci conto che quella roba lì non ci serve e non ce la comanda nessuno e non ce lo chiede nessuno di farlo ultimamente da più voci almeno mi arriva un po' il detto fatto è meglio che perfetto perché effettivamente è stato così un po' per tutti io sono una di quelle che dopo cinque anni è riuscita a fare il proprio sito web così per dire no perché nonostante tutto poi alla fine vuoi fare e alla fine l'importante è che sia qualcosa di fatto che magari ti piaccia almeno un po' poi si migliora tutto ma almeno partiamo sì infatti vorrei aggiungere appunto questo che ecco vi ringrazio perché fate un po' parte diciamo di questa terapia perché appunto per essere pronta per partecipare a questo work camp finalmente dopo tre anni sono riuscita a terminare il restyling del sito quindi grazie e niente se c'è qualcos'altro se no vi chiederei se posso fare un selfie prego Rita non è ancora finito anche io volevo ringraziare tornare un attimo sulla sindrome dell'impostore che è una cosa che colgo spesso sul mio lavoro e anche spezzare una lancia sulla schiena degli uomini hai perfettamente ragione condivido in pieno l'uomo è bravissimo a parlare di se stesso un po' meno bravo a parlare magari della propria attività forse perché in termini femminili attività aziende probabile noi cerchiamo di aiutare cioè in generale è molto difficile parlare di se stessi noi cerchiamo di aiutare le persone per quello spesso affidarsi a qualcun altro che ti dà una mano a tirar fuori queste cose può essere utile infatti cioè lo come dire lo dico serenamente che molte delle riflessioni appunto che ho portato e che ho fatto in quel periodo cioè non è che me le ho tirate fuori da sola per me c'è stato bisogno di un sostegno psicologico continuativo non trovo cioè trovo che un percorso psicologico innanzitutto sia un regalo che ogni persona dovrebbe fare a se stesso nella vita sempre anche se sta bene ok perché c'è sempre qualcosa da sciogliere e da risistemare e in particolar modo appunto se siamo un po' no tutti in più come dire se o no presso noi stessi no come se comunque c'è scritto sui social no quindi c'è se abbiamo un business da tirare avanti appunto forse aiutare da qualcuno dall'occhio esterno no che riesce un po' a rincasellare tutte le cose al posto giusto ok prendiamo qui un'ultima domanda anch'io ringrazio per quello che hai detto secondo me un altro elemento è che dobbiamo uscire dalla logica della performance sì senz'altro nel senso che gli anni 80 erano gli anni delle performance viviamo in un modo digitale che è misurato dai numeri e ranking e quant'altro questo non ci aiuta secondo me cambiare la logica significa anche cioè secondo me diventa quasi un pregio dire che uno ha delle paure ha dei difetti ha delle imprecisioni sì non l'ho detto io l'ho sentito dire ma per me è una frase molto importante il cliente compra il fornitore non compra il cliente il prodotto il prodotto deve essere performante certo lo diamo più scontato lo diamo più scontato però almeno io vedo che nel mio caso mi trovo anch'io meglio con i clienti che comprano me vogliono vogliono il sito fatto da me sì perché evidentemente c'è qualcosa che mi piace noi siamo il valore aggiunto esatto e quindi questo che secondo me deve essere messo al centro nel discorso dell'autopromozione nel senso che come Michelangelo non fa male promuoversi nel senso se questo è la lente con cui lo facciamo certo giusto ok grazie a tutti grazie Margherita voglio fare un attimo un piccolo sì sì va bene vieni vieni no scusa giriamoci giriamoci è così è certo aspetta grazie a tutti grazie piccolo regalo da Torino grazie a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti